Euro Regioni News Mandiciano, Lunazzi dipinge e rallegra gli angeli Luciano Lunazzi è artista poliedrico 65enne con i tratti somatici tipici di quei carnici di montagna accentuati dalla lunga barba grigia che senza troppi complimenti regalano almeno 20 anni di più una vita che l'avrebbe accomunato a tantissimi altri che negli anni 70 hanno scoperto la libertà regalata dalle rivoluzioni altrui gli americani protestavano per la guerra in Vietnam e noi gli andavamo dietro con gli stessi abbigliamenti multicolore i capelli lunghi e l'affrontare la vita con leggerezza disse agli anni 70 con le zampe d'elefante, da capellone, ribelle nei confronti di tutto e di tutti pochi lo conoscevano come artista, era considerato un pittore solo da una ristretta cerca di amici e cultori della pittura ma nessuno poteva dimenticarlo dopo averlo conosciuto di persona poi ci fu un video realizzato da Andrea Scalone nel 2010 dal titolo L'Uomo di Cartone quel video probabilmente è stato la scintilla che ha fatto esplodere il vero successo felici ma furrans dal medio friuli per Euroregione News Marco Mascioli